Parte dal Salento la guerra legale al piano coste regionale e quasi simbolicamente il primo ricorso pilota presentato da un singolo stabilimento arriva dal leader di Sibconf Commercio Alfredo Prete, che è il primo imprenditore balneare a far ricorso, affiancato dalla sua organizzazione ma anche dal comune di Lecce contro le previsioni del piano approvato dalla regione Puglia. Se dovessi applicarlo, spiega Prete, dovrei letteralmente smontare metà del mio lido e come me una serie di stabilimenti storici. Qual è il punto più clamoroso contestato dal presidente della Camera di Commercio? Ogni lido ha diritto a un frontemare di 100 metri, ma questa previsione si applica anche alle concessioni già in essere. Quindi a Lido York, che è un frontemare di 200 metri, ma anche ad esempio allo storico lido San Giovanni di Gallipoli, che ha ben 400 di frontemare e dovrebbe abbattere tre quarti delle proprie cabine realizzate decenni fa e quindi in muratura. E così spiega Prete per altri stabilimenti storici, come il Bacino Grande di Porto Cesario o la sorgente di Torre dell'Orso, tutti i lidi che ora stanno formalizzando il ricorso contro la regione Puglia per smontare pezzo per pezzo il piano regionale delle coste, tutti assistiti dall'avvocato Bartolo Ravenna e tutti affiancati dal Sibcomf Commercio. Nel caso di Lido York, tra l'altro, Alfredo Prete potrà contare sulla costituzione ad adiovandum del comune di Lecce. La delibera è stata approvata nei giorni scorsi, per quanto un errore materiale, che verrà presto corretto, assicura la dirigente Maria Luisa De Salvo, riportava una costituzione contro Prete e non a favore. Un piano delle coste ci vuole, sottolinea Prete, ma deve salvaguardare le imprese esistenti e va condiviso con gli operatori del settore. Invece questo piano è stato approvato senza coinvolgimento degli operatori in pieno agosto, tagliando le gambe a gran parte delle concessioni in essere. Su queste affermazioni, ora, saranno chiamati a pronunciarsi i giudici amministrativi. La guerra dei Lidi è ormai avviata e promette di fare scintille e di intasare i tar, visto che, stando all'estime, almeno un terzo degli stabilimenti si trova in condizione di fare ricorso.